Buona la prima, anche se per il bitonto Francesco Modesto non è affatto una nuova conoscenza. Il ritorno dell'allenatore sulla panchina nero-verde è coinciso con la vittoria in rimonta ai danni del Bisceglie. Esito positivo di... Una partita di due volti. Diciamo che abbiamo concesso una buona parte del primo tempo, abbiamo preso, tra virgolette, un cazzotto in faccia. Poi abbiamo cambiato qualcosa sull'aspetto tattico, giocando con un 4-3-1-2. Sono stati bravi i ragazzi a crederci nel secondo tempo, a prendere più consapevolezza e abbiamo ribaltato la partita, credo, meritatamente. Abbiamo portato in porto questo grande risultato che, sinceramente, i ragazzi meritavano dopo tutto questo tempo di punti a secco. Al Palmiotta di Modugno il bitonto ha avuto la forza per ribaltare lo svantaggio generato dal gol di Conee con gli acuti di Cantalice e del solito Senè. Quota 17 punti, quart'ultimo posto con il Corato e Tris di sconfitte di fila cancellato, punteggio che vale ossigeno in classifica e motivazioni nello spogliatoio. Abbiamo parlato di un bitonto un po' demotivato nel cospetto dei risultati, però penso che le vittorie poi diano un po' di morale. Tre turni alla fine del girone di andata, sei al termine di un intenso 2024 sul campo, il Tour de Force dicembrino con tre match casalinghi e altrettante trasferte parte dalla sfida sul campo della Polimnia seconda in classifica. La Polimnia è una squadra costruita a dovere, gioca bene, li ho visti, ha giocatori importanti, un allenatore importante e noi ora pensiamo a noi, a lavorare per cercare di far bene anche a Polignano.